Ciao amici di Made in Vino e anche oggi presentiamo un ottimo vino rosso per voi, siamo qui sempre con Sommelier Cristina. Ciao! Allora oggi grande vino tenuto di Biserno, il nome del vino è Insoglio del Cinghiale, è una vendemmia 2012, è un blend di diversi litigni, quindi Syrah, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdun. 13 gradi e mezzo per l'abbonamento e la dolce vita. Sì! Ok! Guardiamo un po' come si presenta nel bicchiere. Direi un rosso rubino con riflessi violacei e direi anche un vino consistente. Sì decisamente. Andiamo al naso. Il naso è intenso, oserei dire, anche se non è molto tecnico, ma intensissimo. Intensissimo. Sì, sì, sì. Perché hanno poterosi profumi, dalle prugne, alle more, alle amarene e poi questa notte del Cabernet Franc, quindi peperone, peperone che si avverte, lo si avverte tanto e finale anche... Pepi diversi direi. Diversi e diversi così di peso. Pazzesco! Direi secco, caldo, piacevolmente proprio rotondo. Già rotondo, il tannino è già ben levigato. Ha un tannino, un tannino comunque che si sente, levigato ma che si sente. Ricorda un po' anche tutta la frutta che abbiamo sentito al naso. Ricorda tutto quello che abbiamo sentito il tannino. Un vino osieremo dire rigoroso. Molto rigoroso. Direi che lo possiamo bere a 14-16 gradi e lo potremo servire con un bel filetto. Io ho un filettino, un filettino abbastanza semplice, magari alla griglia, cotto leggermente al sangue con un filo di olio nuovo. Sì, sì. E poi naturalmente abbiamo il piatto che propone la cucina dei curiosi. Esatto. Quindi andate nel blog a verificare l'abbinamento di questo mercato. La cucina, il blog e la cucina di questo. Esatto. E poi ricordate a soli 19,90€ potete diventare sommelier. Sommelier. Seguendoci su madeinvino.com. Amici Made in Vino, cin! Cina!